Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video ASMR e volevo leggere il mio pensiero. Ti porto con me nell'angolo del mondo a guardare l'infinito che c'è in fondo ai tuoi occhi. Grazie per essere stati con me in questo minuto per aver sentito il mio pensiero. Grazie e vi raccomando, like e campanella. Ciao.